benvenuti amici appassionati in questo nuovo appuntamento targato on access racing siamo in partenza alla catania etna che prenderà il via domenica prossima domenica prossima quindi sabato sabato le prove venerdì le verifiche quaggiù sabato prove 1 prove 2 domenica gara 1 e gara 2 quindi siamo alla partenza ragazzi abbiamo fatto quattro passaggi sul percorso del percorso è pulito non c'è presenza di sabbia vulcanica lungo il percorso l'allestimento del percorso con le varie gomme balle di paglia e le chicane che sono tre trovate la mappa del percorso sulle pagine della corona scalata inizierà l'allestimento presumibilmente o domani in giornata o lunedì quindi non ci sono grandi cose da fare quindi credo che in giornata in una settimana riescono tranquillamente da allestire tutto il percorso discorso diretta allora diretta sabato prove 1 e prove 2 la faremo sul mio canale youtube con una sola telecamera 99 per cento sarò nella zona del frondoio quindi ci beccheremo tutto quel tratto sia per prove 1 per prove 2 gara di domenica presumibilmente andremo in diretta sempre sul mio canale youtube e sulle sulle pagine social della crono scalata quindi presumibilmente partiremo per le 8 e 30 anche se la gara inizierà magari un pochettino più tardino noi potremmo essere pronti per andare in diretta alle 8 e 30 quindi state sintonizzati attivate le notifiche quattro telecamere sul percorso domenica partenza abbiamo trovato un posto spettacolare da panico sul percorso a metà percorso velocità da panico e altre due telecamere in zona arrivo quindi l'ultimo curvone sinistro e il curvone a si il ultimo curvone destro e il sinistro quelli ce l'abbiamo con display a vista quindi beccheremo anche i tempi live niente ragazzi tutto quello che dovevo dirvi l'ho detto anzi no dimenticavo una cosa gara con non prevista la presenza la presenza di pubblico quindi vale la regola che vi ho spiegato in tutti gli altri video quindi pubblico non previsto pubblico non previsto questo è il quanto ragazzi ci berchiamo venerdì per le verifiche la sarò tutta la giornata qui le verifiche verranno sono fatte sotto in pineta quindi saremo tutta la giornata qua a fare interviste e quant'altro niente ragazzi per il momento è tutto allora non l'avreste ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un bel like e poi dire il video